Ciao a tutti lettori BED, fervono i preparativi perché proprio qui in piazzale a Rigoni dove c'è l'hub di Netflix verrà inaugurato tra pochi minuti l'edizione 2017 di Luca Comics & Games. Noi abbiamo avuto l'opportunità di fare un tour un po' in anteprima all'interno di questo hub nel quale sono esposti i costumi di alcune delle serie che sono presenti su Netflix, alcune serie più amate di questo 2017, c'è poi tutta un'area sul bastione dedicata a Stranger Things, qui sono presenti i costumi di Star Trek Discovery, i costumi di Defenders che abbiamo già visto a Comic Con, poi ci sono aree con attività dove viene creata una gif personalizzata oppure c'è una specie di indovina chi con i personaggi più amati delle serie di Netflix. Insomma come primo anno per Netflix qui a Luca Comics sembra che sarà veramente promettente.